Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Come ci svegliamo questa mattina? Ci svegliamo con la quasi certezza, quasi, perché nel calcio non c'è nulla di sancito a priori, anche se direi che abbiamo cospicui, fondati e difficilmente confutabili elementi per poter dire che la Juventus ha ormai in mano, ha ormai praticamente vinto il suo nono titolo consecutivo, perché la Juve ha battuto la Lazio ieri sera, 2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo, poi il calcio di rigore di Ciro Immobile che ha rimesso le cose in discussione alla fine in una partita che andremo ad analizzare perché ci ha detto un po' di cose, ci ha dato delle conferme in tanti settori e la Juventus adesso ha 8 punti, 8 punti e mezzo di vantaggio sull'Inter che rimane la prima inseguitrice, potrebbe già essere campione d'Italia giovedì sera nella partita contro l'Udinese, perché se l'Inter non dovesse battere la Fiorentina e la Juventus dovesse fare il risultato, sarebbe appunto aritmetico il suo successo in questo campionato, se non sarà giovedì sarà probabilmente domenica con la Sampdoria, ripeto nel calcio può sempre succedere di tutto, però questa situazione a 4 giornate dalla fine ci dice che la Juventus è veramente a un passo, forse anche meno dal portare a casa questo stranissimo campionato e un altro segnale è arrivato all'interno di una partita che è stata un po' se la vogliamo vedere in questo modo, la solita partita della Juventus in questo campionato, ovvero una partita fondamentalmente controllata, non su ritmi che esasperate, senza fare cose sbalorditive o cose meravigliose, però una partita controllata, una partita che nel primo tempo è finita 0-0, la Juve aveva colpito un palo con Alexandro sugli sviluppi di una bella costruzione su palla inattiva, poi aveva avuto anche altre situazioni non clamorose ma altre situazioni, aveva anche concesso perché anche la Lazio ha colpito un palo nel corso del primo tempo con Ciro Immobile, un tiro secco, un tiro bello, un tiro sfortunato perché era spinto proprio dalla base interna del montante, poi nella ripresa il furore della Juve, tre gol, due gol segnati in tre minuti, il primo su calcio di rigore, direi che stavolta sull'episodio di dubbi ce ne sono pochi perché Bastos colpisce il pallone con il braccio ed è effettivamente all'interno dell'area di rigore, rigore perfetto di Cristiano Ronaldo, il suo dodicesimo in questo campionato, poi la fame, la voglia di andare a farla fuori la partita con l'errore di Luis Felipe ma anche la doppia pressione predatoria di Di Bale Ronaldo e l'assist dell'argentino per il trentesimo gol in campionato del portoghese e alla fine ancora un eccesso di sicurezza, un eccesso di rilassamento, la partita che viene riaperta da una sbavatura difensiva, una sbavatura di bonuccio, un'incomprensione, comunque ne ha approfittato molto bene Immobile, rigore segnato da Immobile, anche per lui 12 rigori, anche per lui 30 gol ed è un testa a testa bellissimo che ci porterà fino alla fine del campionato, la parata di Scesni per blindare la vittoria sulla punizione di Milinkovic alla fine per cui ancora una volta una Juventus che si dimostra superiore alle altre, obiettivamente mi sembra di poterlo dire, ma non così superiore dall'essere dominatrice assoluta di questo campionato come potrebbe indicare la classifica e da qui si originano un po' le riflessioni che vorrei fare con voi questa mattina, sulla partita che ha dato una grossa fetta di scudetto a Sarri e alla sua squadra e in generale sulla stagione che è stata e sulla stagione che sarà, perché per la Juventus la stagione non finisce di sicuro con questo campionato, il grosso si fa ad agosto, la partita con Lione e la possibilità di questa giostra infernale, di questa Final Aid di Champions League dove tutto può veramente succedere. Dalla partita della Juventus che vi ho tratteggiato a linee generali prendo alcune situazioni individuali, parto ovviamente da Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo quando conta, quando c'è da sancire, quando c'è da piazzare il timbro, arriva e segna due gol, colpisce anche una traversa. Io ho visto un Cristiano Ronaldo non in forma smagliante sul piano fisico, ma sempre terrificante sul piano mentale, perché lui queste partite non le sbaglia mai, lui è sempre l'uomo decisivo, quello che ti fa fare lo scatto per arrivare alla vittoria. Se la vittoria non arriva di solito è perché manca qualcun altro, mancano altri pezzi di squadra, non manca mai Cristiano Ronaldo che infatti è arrivato a 30 gol in campionato. Adesso per Ronaldo Immobile c'è un bel inseguimento perché al momento la scarpa d'oro è di Lewandowski che di gol ne ha fatti 34, mancano quattro partite con le ritmiche realizzative di questi due super attaccanti, insomma ci si può credere che la scarpa d'oro quest'anno arrivi in Serie A. Soprattutto Ronaldo ha stabilito un altro record, è il primo giocatore nella storia ad arrivare ad almeno 50 gol segnati in tre grandi campionati europei, Premier League, Liga e adesso Serie A. È il più veloce nell'era dei tre punti ad arrivare a 50 gol nel campionato italiano. Ha battuto il record precedente che apparteneva a Shevchenko e questa è un po' la quotidianità di Cristiano Ronaldo, abbattere qualsiasi tipo di muro e arrivare ad essere decisivo nel momento decisivo. Lo è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. Ripeto, in questo momento più che la condizione fisica, che è un qualcosa di gestito, è un qualcosa di lavorato, è un qualcosa di non al 100% perché non è il Ronaldo più smagliante della stagione questo e sarebbe anche difficile pensarlo, è la forza caratteriale. Lo ha detto Sarri dopo la partita, la capacità di recuperare mentalmente pur giocando ogni tre giorni, pur avendo delle pressioni, pur avendo i soliti discorsi attorno e la solita attenzione, la solita presenza mondiale attorno a lui. Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi che si siano mai visti anche per questo. Però voglio dire una cosa che magari può suonare provocatoria ma invece è una cosa che deriva esclusivamente dal gusto, dal piacere per il grande calcio. Ronaldo ha fatto due gol ed è dunque l'uomo copertina della partita, del campionato, di tutto quello che è la Juve oggi. Ma Dybala, ancora una volta, è stato il giocatore geniale, è stato il giocatore di spicco della partita dal punto di vista dell'estetica, della meraviglia regalata al tifoso. E dire che Dybala la partita non doveva giocarla perché nella formazione iniziale Sarri aveva inserito Higuain. Poi si è capito, Dybala aveva avuto un piccolo problema alla schiena nell'allenamento del giorno precedente. Higuain ce l'ho avuto nel riscaldamento e dunque ha giocato Dybala. Io credo che nella scelta di far giocare ancora Higuain e di far partire ancora dalla panchina Dybala fosse dettata anche da un piano strategico. Perché la Juventus è scesa in campo con un'idea molto efficace e un'idea che si è concretizzata almeno per tre quarti di partita, ovvero quella di blindare il settore centrale del campo. E infatti la Lazio non ha mai avuto la possibilità di far correre la palla per linee centrali. In questo senso con una squadra così ben compatta in mezzo e un Higuain che potesse andare a disturbare immediatamente l'uscita difensiva e potesse piazzarsi lì e allo stesso tempo ribaltare subito, andare in profondità appena recuperata palla, poteva essere il piano partita rispetto a un Dybala che tende più a decentrarsi e a lasciare il corridoio in mezzo per il lavoro magari di un centrocampista di inserimento oppure andare ad occuparlo con tempistiche e dinamiche diverse. Penso che questo potesse essere il pensiero iniziale di Sarri e sarebbe stato un pensiero assolutamente corretto. Tra l'altro, chiudendo questo discorso tattico, quanto abbia funzionato questo piano si è visto proprio sull'azione del 2-0. Quando Luis Felipe riceve questo pallone e non ha nessun tipo di linea di impostazione, di linea di scarico aperta, poi lui va in panico e invece di buttare via il pallone si fa arrivare addosso le due belve e finisce sbranato. Con Dybala che ha avuto anche la lucidità, l'altruismo, l'intelligenza, l'astuzia direi di offrire questo pallone a Cristiano Ronaldo perché poteva andare lui a segnare il 2-0. Però il fatto che abbia dato la palla a quello che in quel momento era diventato il capocannoniere solitario, poi ripreso dai mobili, ma comunque abbia fatto segnare il suo grande, ingombrante, inarrivabile compagno che lotta sempre per i record individuali, ci dimostra quanto Dybala si è cresciuto mentalmente dall'estate scorsa all'interno di questa stagione e quanto sia veramente il secondo superuomo di questa Juventus. Un uomo squadra anche lui, un uomo che ha fatto un passo in avanti sul piano della maturità e poi è un giocatore che tecnicamente è costantemente splendente. Ha iniziato la partita con un trick sulla linea di fondo che mi ha fatto immediatamente saltare in piedi dalla poltrona. Ha offerto a Ronaldo questo pallone, gli ha messo sulla testa anche la palla della tripletta, un bellissimo cross morbido, vellutato e Ronaldo ha colpito la traversa con la sua incornata, poteva fare meglio, poteva arrivare alla tripletta CR7. Io dico che Dybala, a livello assoluto, sommando tutte queste cose che abbiamo visto ieri sera e che abbiamo visto nel suo campionato, è il miglior giocatore della Serie A. L'ho già detto più di una volta, lo dico da tempo, voglio circostanziare questa mia affermazione. Ronaldo è fuori categoria. Ronaldo, così come Messi, sono giocatori che non possono essere messi in mezzo agli altri. Per cui dicendo che Dybala è il miglior giocatore della Serie A, non vi sto dicendo che sia più forte di Ronaldo. Perché Ronaldo e Messi sono imparagonabili, sono entità a sé, sono semi-dei e per questo non possono essere messi nella mischia degli esseri umani. Ma fra gli esseri umani, chi spicca in Serie A è Paolo Dybala. È il giocatore più tecnico, è il giocatore più inventivo, è il giocatore più bello, è il giocatore più emozionante del nostro campionato. E il paragone si può fare proprio con quello che succede nel regno di Messi, ovvero in Liga, dove il miglior giocatore del campionato è stato Karim Benzema. Poi Messi è Messi, ma Benzema è stato il miglior giocatore del campionato. Ha portato cose fondamentali per il titolo del Real Madrid. E lo stesso discorso si può fare per Dybala in Serie A. Quindi in questo senso vi dico che Dybala, tolti quelli fuori categoria, ovvero quei due là, è il miglior giocatore della Serie A e penso lo abbia dimostrato ancora una volta nella partita contro la Lazio. Poi parlando di individualità, vi parlo ovviamente anche di Bentancur, l'altro tassello sempre più fondamentale nel presente e pietrangolare per la costruzione della Juventus del futuro. Bentancur ha giocato da vertice basso al posto di Pjanic, che è andato in panchina. Io vedo un Bentancur in questo momento molto focalizzato sul accrescere la propria sostanza all'interno della squadra. Ed è quello che deve fare in questo momento l'Uruguaggio, perché sulla sua visione, sulla sua capacità anche di inserirsi, sulla sua capacità di muoversi, sul suo valore tecnico abbiamo già avuto ampie garanzie. Bentancur, per diventare veramente un grande centrocampista centrale, un elemento completo, un elemento che può stare in una squadra che parte per vincere tutto, un centrocampista centrale moderno, quindi in grado di fare più cose in più posizioni, deve arrivare anche al grado di sostanza definitivo, diciamo, e mi sembra che ci sia abbastanza vicino. Perché da tanto tempo questa parte Bentancur dimostra di avere ottimi tempi nell'uscita in pressing, e questo quando gioca a mezz'ala è fondamentale, perché andare ad aggredire, andare subito ad asfissiare l'avversario, andare subito a cercare di recuperare il pallone, poi avendo la sensibilità tecnica per trasformarlo immediatamente nell'occasione offensiva, è una cosa fondamentale. Se si vuole anche arrivare ad avere un Bentancur ottimo per il ruolo di centromediano, per il ruolo di vertice basso del centrocampo, allora deve arrivare ad avere anche sostanza difensiva nel tackle, nel tamponamento della situazione, e vedere giocare Bentancur oggi, e vedere giocare un elemento che sta mettendo anche queste cose, per cui penso che gli orizzonti dell'ex giocatore del Boca siano veramente, veramente alti, veramente totali, e continuo a pensare con tanta curiosità a come Sarri, perché Paratici prima della partita ha detto che Sarri sarà senz'altro l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, ci presenterà la coppia Bentancur-Artour, perché io sono convinto che possano essere due giocatori splendidamente integrabili e possano essere due elementi in grado di far fare alla Juventus il salto di qualità nella gestione della partita, nella qualità del palleggio, nella continuità all'interno di 90 minuti, che è quello che continua un po' a mancare, perché ancora una volta una partita fatta, una partita fondamentalmente chiusa per una squadra con lo status e la gerarchia della Juventus, è stata riaperta. È stata riaperta perché la Lazio ha segnato, e la Juventus ha preso ancora gol, sono 36 gol subiti dalla Juventus in questo campionato, un numero decisamente alto. La Juventus ha preso gol in 23 partite delle 34 giocate. Non siamo abituati a questo tipo di riscontri da parte della Juve e da parte in generale della capolista della Serie A, però ci sono dei discorsi da fare su questo. Innanzitutto si sono moltiplicati i gol nel campionato italiano, rispetto a questo punto della scorsa stagione siamo oltre 100 in più, e sono un'enormità anche il fatto che si parli di una stagione spezzata in due, con due parti, con un aumento sensibile, esponenziale del numero di gol segnati dopo il lockdown ha una sua incidenza, così come, e io continuo a ripeterlo, ha un'incidenza al fatto che il grande calcio di oggi è cambiato. È un calcio meno speculativo, è un calcio meno difensivo, è un calcio dove si va, dove si propone, dove si gioca con tanti attaccanti, dove si va alla continua ricerca del gol, dove ogni partita può essere sempre riaperta, può essere sempre mantenuta in bilico, anche con risultati discretamente ampi. E questa è una manna per noi osservatori, per noi innamorati, per noi appassionati, perché vuol dire maggior spettacolo, vuol dire maggior valore tecnico, vuol dire maggior divertimento, che poi è quello che la gente cerca. Non dico che ci sia da giocare tutti all'attacco, e a lei senza nessun tipo di strategia, di tattica o di conformazione difensiva, ma il coraggio, la mentalità propositiva, prima che distruttiva, è fondamentale per crescere. E in Serie A quest'anno l'abbiamo visto fare da tante squadre, e per questo il livello globale è cresciuto. Detto tutto ciò, ci sono però anche delle criticità all'interno della Juve, questi cali di tensione, questi blackout, anche queste sbavature individuali, perché, insomma, nella partita con la Lazio, poi anche il calcio di rigore, si origina da un tentennamento di Bonucci, che credo sia anche un po' al limite fisico, e ci può stare. Lo stesso De Ligt ha qualche problema, non è il De Ligt di qualche tempo fa. C'è questa spalla che gli dà fastidio, interverrà alla fine della stagione, ed è una situazione da monitorare, perché gli infortuni alla spalla sono estremamente fastidiosi, e piuttosto difficili da risolvere. Per cui, anche questo pesa, Chiellini non può ancora essere davvero a disposizione, così come non può esserlo De Miral, addirittura Sarri ha finito con i tre centrali, una cosa pressoché inedita nella sua carriera, perché alla fine è entrato anche Rugani, per un Dybala che è uscito un po' così così, diciamo, però è una cosa neanche di contorno, è una cosa che non andrebbe nemmeno considerata. Però ecco, queste problematiche della Juventus all'interno della partita, si vede proprio che la squadra molla, molla sul piano della concentrazione, diventa un po' sbadata, e di conseguenza fa degli errori, è una cosa che in Champions può costare carissima, carissima, perché, proprio per il fatto che quando si arriva al massimo del livello si trovano squadre che ti possono fare gol sempre, non riuscire a gestire la partita, ad arrivare fino in fondo, ad essere costanti all'interno di 90 minuti, specialmente in quello che ci ritroveremo davanti per assegnare alla Champions League quest'anno, può essere una pecca gravissima, e questo è indubbiamente il neo che la Juventus si porta dalla partita contro la Lazio, ma in generale, da tutta questa stagione, un neo che Sarri non è ancora riuscito a togliere. Dall'altra parte, la Lazio si ritrova ormai staccata, ormai fuori dai giochi, io credo anche un po' immalinconita, perché la Lazio ce l'aveva creduto, e non solo ce l'aveva creduto, aveva dimostrato di potercela fare. Quando siamo andati all'interruzione all'8 marzo, la Lazio secondo me aveva, non vi dico il 51% di possibilità di vincere questo campionato, perché sarebbe esagerato, ma di sicuro il 49% sì, e quindi era lì, aveva una stagione apparecchiata, con i modi giusti, con la possibilità di preparare esclusivamente ogni partita di campionato, una squadra in grande fiducia, una squadra che stava bene, adesso è una squadra piuttosto svuotata, è svuotata dall'indisponibilità, perché regalare giocatori fondamentali, come Radu, come Lulic, come Lucas Leiva, come Correa, come Luis Alberto, anche potenziali alternative, come Marusic, come Johnny, come Patrick, che adesso è squalificato, insomma è qualcosa che non si potrebbe permettere a nessuno, figuriamoci una squadra che, io vi ho sempre detto, non aveva una rosa corta a livello assoluto, aveva la rosa giusta, per le condizioni in cui si trovava, adesso è una rosa chiaramente insufficiente, tant'è che Nzaghi deve inventarsi Anderson come laterale di sinistra, deve spremere Parolo, poi anche Cataldi non sta benissimo, e la Lazio fondamentalmente si è presentata a Torino con due sole possibilità per fare qualcosa. La grande varietà di soluzioni di gioco che la Lazio ha avuto per i primi due terzi di stagione, adesso è minata. La Lazio cosa poteva fare? Poteva fondamentalmente aggrapparsi alle sue individualità, a due individualità, quella di Ciro Immobile e quella di Milinkovic Savice. Immobile infatti la partita l'ha riaperta, è andato a conquistarsi, a segnare il calcio di rigore, che gli permette di rimanere ancora il capo caroniero del campionato, seppur in coabitazione, è un immobile che ha sofferto tanto dopo la ripresa, però è un immobile che mentalmente non ha mollato, e si vede, perché poi quando vai a prenderti questo tipo di riscontri personali in una situazione del genere, vuol dire che ci sei, e questa è una cosa molto importante da sottolineare. Lo stesso Milinkovic Savice ha provato, è andato vicino a 2-2 con quella punizione, parata in tuffo dal solito spettacolare decisivo Szczesny, però Milinkovic era anche dal punto di vista tattico quello che poteva scardinare la Juventus, con il suo inserimento da dietro, palla lunga per l'inserimento di Milinkovic Savice, e la Juventus sa bene che è una cosa che fa male questo tipo di situazione. Ci ha anche provato nel primo tempo, c'è stata un'azione, un'occasione, in cui Milinkovic Savice è riuscito a inserirsi fra il terzino e Bonucci. Cos'è che è mancata? La qualità della palla che gli arrivava, perché di solito arrivava da Luis Alberto, al limite da Lucas, quindi finissimi dicitori, entrambi assenti in questa partita, e chi li ha sostituiti ha dato sicuramente il massimo, ma non ha lo stesso livello tecnico, quindi la Lazio ha dovuto inchinarsi, adesso il ruolino è molto modesto, perché dopo il lockdown la Lazio ha fatto solo 7 punti, il pareggio con l'Udinese e le due vittorie contro Fiorentina e Torino, squadre di medio-bassa classifica, e tra l'altro due vittorie piuttosto stentate, due vittorie in cui la Lazio ha rischiato di non vincere neanche in quel caso. E' un peccato, c'è un po' di malinconia, c'è un po' di tristezza, perché poteva essere davvero una stagione trionfale per i Bianco Celesti, però va superato questo tipo di rammarico, questo tipo di rimpianto, guardando la realtà, perché la Lazio è ormai vicinissima al conquistare la rinventica certezza di un posto in Champions League, e non è per niente una cosa da poco, un po' perché la Lazio non conquistava un posto, fra le prime quattro, un posto in Champions League, dall'immediato post-calciopoli, ed è passato tanto tempo, e comunque quello era un campionato particolare, perché non c'era la Juventus, c'erano le penalizzazioni, quindi questo già dà la portata di cosa abbia fatto la Lazio, in una stagione in cui ha vinto anche la Supercoppa, dopo che l'anno scorso aveva vinto la Coppa Italia. Per cui la crescita, la stabilizzazione al top del livello di questo club, è di per sé un straordinario risultato raggiunto, perché poi oggi, arrivare in Champions League, nel campionato italiano, vuol dire fare qualcosa di veramente grande, perché, dando la Juve per scontata, ci sono Inter, Lazio, Atalanta, Roma, Milan e Napoli. Tre di queste rimangono fuori, quindi bisogna tenere dietro tre di queste squadre, che sono tutte squadre che partono con l'obiettivo minimo, di arrivare fra le prime quattro. E la Lazio ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, non è ancora aritmetica la cosa, però diciamo che è molto vicina ad avercela fatta, senza aver mai messo in discussione una presenza in questo lotto di squadre, anzi, essendo stata, guardando le cose con onestà, la vera anti-Juve di questa stagione, indipendentemente da quale sarà la classifica finale, e da quel che sarà l'epilogo. Ed è una Lazio che, secondo me, all'interno di questa stagione, e anche nella partita di ieri sera, ha dimostrato di esserci non solo a livello tecnico, non solo a livello di efficacia, di progettualità di squadra, meriti da scrivere enormemente all'allenatore Simone Inzaghi, ma di esserci anche sul piano della mentalità, perché la Lazio l'ha battuta la Juve quest'anno, l'ha battuta in gara secca in una finale, l'ha battuta nella partita di andata, è rimasta comunque in partita fino alla fine, anche in questa squilibratissima gara di ritorno, e quindi io credo che anche la mentalità della Lazio, sia stata dimostrata in questa stagione. Cosa serve a questo gruppo? Serve di essere allungato, serve di essere allungato, perché l'anno prossimo comunque ci saranno più impegni, e dunque ci sarà bisogno di alternative di livello migliore, la speranza davvero da sportivo, da amante dei bei progetti, e delle squadre che crescono, è che non vada via nessuno, perché sarebbe un vero peccato, questo gruppo al 100% merita un'altra chance, anzi in una stagione tra virgolette un po' più normale, allungando magari, con quelle che possono essere alternative interessanti, faccio un nome su tutti, ma poi avremo tempo per parlare di mercato, il nome di Borca Majorale è un nome interessante, perché è un ragazzo al quale è pesata la maglia del Real Madrid, non ha dimostrato di poterla vestire, ma è un attaccante intelligente, è un attaccante che ha colpi realizzativi, pur non essendo ancora stato, perché parliamo comunque di un giovane, un bomberone da cifre realizzative esorbitanti, ma è un attaccante da gioco, è un attaccante tecnico, è un attaccante intelligente, è abituato anche a vivere i grandi contesti, per cui mi sembra una di quelle idee fini di glittare, che possono poi germogliare molto bene all'interno di questo sistema, questo per dire che, insomma, capisco che in questi giorni, in queste settimane, in questi momenti, per il tifoso della Lazio e nel mondo bianco celeste, ci sia un po' di malinconia, ci sia un po' di rammarico, ma bisogna guardare le cose in profondità e con lucidità, la stagione della Lazio rimane una stagione straordinaria, una stagione che può portare ad una crescita veramente, veramente importante. Queste le mie sensazioni, questi miei commenti sulla partita di ieri sera, la partita che ha fatto il campionato di quest'anno, ma il campionato non si ferma, e stasera abbiamo altre due partite molto interessanti da seguire, perché c'è il confronto fra l'Atalanta e il Bologna, voglio vedere la reazione del Bologna, e comunque potenzialmente è un confronto fra stili frizzanti, fra stili che possono farci divertire, e stasera invece si gioca a Sassuolo Milan, le due squadre, due delle squadre più in forma della ripresa del campionato, poteva essere uno scontro diretto per l'Europa, De Zerbi non ha voluto mettersi giù da questo treno, però la distanza è sensibile, e comunque il Milan ha nel mirino la Roma, per cui è un'altra partita molto buona, molto bella da vivere e da vedere, ne parleremo domani, ci rivedremo però ancora nel corso della giornata, perché ovviamente iniziando un altro turno di campionato, dobbiamo parlare del nostro fantacampionato statistico su Kikest, e poi in questi giorni voglio accompagnare i commenti della Serie A, che non si ferma mai, anche con un po' di sguardi verso altri paesi, voglio proporvi un atto punteci della Liga, perché voglio parlarvi dei protagonisti principali del campionato che si è concluso, che ci ha regalato emozioni veramente fino all'ultimo secondo, perché a dieci secondi dalla fine della propria partita, Lega Nessa ha avuto la palla della salvezza, avrebbe mandato giù il Santa Vigo, sarebbe stato un qualcosa di incredibile, e invece il tiro di Oscar contro il Real Madrid è finito alto, per cui vi parlerò della Liga attraverso un atto punteci, che è una cosa che ci coinvolge sempre, e che ci fa divertire, ma voglio anche parlarvi di Inghilterra, di Coppa d'Inghilterra, di campionato inglese, e soprattutto dell'ultima impresa di Don Marcelo Bielsa, che ha riportato il Leeds in Premier League, dopo 16 anni avremo una settimana piena di argomenti interessanti di cui parlare, per cui ci rivediamo prestissimo sempre qui sul nostro canale.